Io sono Gianni Cattaneo, oggi è il 18 marzo 2016, ho fatto il test a distanza del dottor Grabovoi e le sensazioni che ho avuto sono state molto forti, il cuore che batteva molto più velocemente, i battiti molto più veloci, il sangue che girava, una sensazione particolare che mi ha stimolato e addirittura come se il terzo occhio volesse aprirsi per i fatti suoi, questa è stata una sensazione che è da molto che non provavo. Grazie